Ciao, io sono Grant Benson e vorrei rubarvi due secondi del vostro tempo per raccontarvi di una bellissima iniziativa per aiutare coloro che soffrono della malattia neuromuscolare, tipo SLA, ovvero la sclerosi amiotrofica laterale. È un progetto lanciato dal centro clinico NEMO e si chiama NEMO My Voice. Allora, per sapere di più, scaricarti l'app NEMO My Voice. Costa 2 euro e 30 centesimo e 2 euro vanno subito al centro clinico NEMO. Si vuole creare una banca d'arte per quelli che sono affetti da questa malattia in maniera tale che loro possono sempre comunicare e parlare con la propria voce quando questa malattia magari non li permette più di parlare in maniera più naturale. Per sapere di più, andate sul sito del centro clinico NEMO e anche io ho voluto partecipare donando una parola a questo progetto. Ovviamente la parola che scelgo io per questo progetto è radio. Vi ringrazio da Grant Benson.